Sono un po' infame, n'è vero? Ciao belli, bentornati sul PuntoDG, io sono il vostro G e oggi, come potete vedere, siamo nella cucina di casa mia, perché io non ho uno studio, ma ehi, anche Linus Tech Tips ha cominciato da una cucina a registrare video, quindi chi lo sa? Ad ogni modo, siamo qui per parlare di schede grafiche e soprattutto della mia vecchia RTX 2080 MSI Gaming X Trio e la nuova arrivata in casa mia, la RTX 3080 Gigabyte Vision, o sì? Allora, come prima cosa ragazzi, l'unboxing di questa scheda è abbastanza deludente, non perché sia impacchettata male, ma perché qui dentro, aia, non c'è nulla praticamente. C'è solamente la schiuma che la protegge e nulla più, a parte la guida all'uso rapido. Ma noi siamo dei nerd, sappiamo come si monta una scheda grafica. Dal punto di vista estetico, questa scheda grafica è la più bella che io abbia mai visto. È di una bellezza che non mi aspettavo, sinceramente parlando. Io ho sempre adorato il design di MSI perché è comunque un pochettino più tamarro, diciamo, un po' più, sapete, grezzo, un po' più da giocatore, guerriero, quelle cose lì. Ma ragazzi, la Vision OSI è decisamente bella, bella, bella. In fatto di dimensioni, invece, se io la metto qui, a parte che ha il fondo squadrato, quindi si mantiene in piedi da sola, le dimensioni sono praticamente identiche a quelle della 2080, in fatto di altezza. Se invece la mettiamo di lato, la 2080 è leggerissimamente più spessa, ma saranno, forse, 4 mm più spessa. Per quanto riguarda invece la parte frontale, anzi non faccio della parte posteriore, faccio dei due backplate che sono bellissimi, se la giriamo così, la 2080 è più spessa della 3080, ma sempre davvero di poco. Per quanto riguarda la parte frontale, invece, vediamo che la 2080 è un pochettino più sporca per quanto riguarda il design, ma appunto è il design del Drago, di MSI, sapete, tutte queste cose davvero poco eleganti, ma che a me piacciono davvero tanto, il fatto che ci sia il Drago argentato qui, i LED RGB qui, è molto molto bello. Infatti avere questa scheda in verticale, ragazzi, è bellissimo, davvero, nel vostro case fa davvero la sua porca figura. La Vision OSI, invece, è estremamente pulita, come potete vedere, da qui, è estremamente pulita, non c'è nulla. C'è solo un LED, che è appunto la scritta Gigabyte qui di lato, se metti a fuoco, la scritta Gigabyte che si illuminerà una volta inserita nel vostro case, e nulla, è semplicemente molto molto elegante. Per quanto riguarda il sistema di alimentazione, abbiamo su entrambe le schede due connettori da 8 pin. Cosa molto molto brutta, perché io avevo ordinato tre cavi slid, perché ero in procinto di prendere la 3080 Asus Strix, ma ok, poco male, ho trovato questa scheda, quindi questa qui ho preso. E che vi devo dire, sono sicuro che nel frattempo voi abbiate visto un po' qualche B-roll, ma io sono impressionato dalla fattura estetica di questa scheda. Io vorrei farvi vedere il backplate, ragazzi. È bello, ma davvero bello. Cioè, io questa qui la metterei, se non la usassi nel PC, la metterei così, di lato, oppure così, da qualche parte in casa, perché è davvero, davvero bella. Che dire, io adesso passerò qualche giorno a testare la scheda su giochi, su programmi di produttività, quali Premiere, perché uso Premiere per editare i video, e soprattutto in streaming, perché ci vorrò streammare con questa scheda grafica e vedere un pochettino come si comporta gaming e streaming allo stesso tempo. Quindi ci vediamo tra qualche giorno e ciao! Allora, se io ho un canale YouTube che parla di informatica o comunque cose tech, è perché io, prima di tutto, sono un appassionato. Io non mi reputo assolutamente un esperto, mi reputo un ragazzo che ha una passione, effettivamente, abbastanza grande per l'informatica. Questa scheda grafica mi fa andare letteralmente in brodo di giugiole. L'ho provata su Cyberpunk 2077, e sapete quanti problemi abbia quel gioco? L'ho provato in 2K con il preset Ultra, con il Ray Tracing a Ultra, e come state vedendo dalle immagini, il framerate varia dai 75 ai 95 frame al secondo. Questo in base alle zone in cui praticamente andiamo. L'ho provato poi su Assassin's Creed Valhalla, un altro mattone bello grosso, 2K grafica tutta al massimo, siamo oltre i 70 frame al secondo. Quindi probabilmente Cyberpunk non è il titolo peggio ottimizzato di questa generazione. Basti vedere Valhalla, che effettivamente è un gran bel mattone. Poi l'ho voluto provare su altri due giochi che sto giocando abbastanza in questo periodo. Il primo è Call of Duty Cold War nel multiplayer, perché lo trovo estremamente divertente. Vi posso dire che questa scheda grafica supera ampiamente il refresh rate del mio monitor. Il mio monitor è un 2K 144Hz, e questa scheda grafica mi fa arrivare a volte anche sopra i 200 frame al secondo. Ecco perché ci sarà una sorpresa nei prossimi giorni per quanto riguarda il mio monitor. Poi l'ho provato su Fortnite. Fortnite e i Battle Royale in generale sono dei titoli davvero molto molto difficili da benchare, per il semplice fatto che presentano aree diverse, con strutture poligonali diverse. Ebbè, è difficile avere un frame rate stabile, è praticamente impossibile su molti giochi, immaginate sui Battle Royale ancora di più. Comunque Fortnite, raga, a volte arriva anche a toccare i 350, qualche volta a 400 frame al secondo e poi scende. Se poi giocate col DLSS, beh, le prestazioni si normalizzano e il gioco diventa, beh, una macchina ad FPS assurda. La cosa bella è che la scheda grafica di norma dovrebbe arrivare a toccare circa 320W di consumi massimi. Ma ci arriva soltanto quando si attiva il ray tracing e si spreme al massimo ogni singola goccia di performance da essa. Perché bene o male il consumo, altrimenti si mantiene più o meno sui 260, 270, 280, diciamo, varia in base alla situazione in game. Le temperature poi sono davvero molto buone. Il massimo a cui l'ho vista arrivare questa scheda grafica sarà dopo praticamente tre quarti d'ora di gioco su Fortnite, Warzone e Cold War, 72 gradi. 72. Tutto in automatico. Ho scaricato il software Aorus Engine, ho settato l'ossi scan che mi ha praticamente impostato le ventole in modo tale che avessero una velocità in base alla temperatura della scheda grafica. E wow, assurdo. C'è un lavoro di ottimizzazione con GPU boost, eccetera, eccetera, tutte le tecnologie su questa scheda grafica che sono impressionanti. Per quanto riguarda invece il rendering video, beh, almeno per il mio workflow è riuscito a tagliare a volte il 30%, a volte il 50% di tempo da alcuni processi. Ed è una cosa davvero incredibile, secondo me, credetemi. Per quanto riguarda lo streaming invece, beh, io non ho fatto nessuna prova di streaming, perché gli streaming ci saranno... Oggi è giovedì 7 gennaio, quindi ragazzi domani alle 15 sul mio canale Viola ci sarà una prova di streaming. Qualche benchmark in live si bencia e si stream allo stesso tempo per vedere come si comporta questa bambina. Io devo innanzitutto ringraziare un utente, un amico del canale, Ugo, Snatch976, per avermi dato una mano a trovare questa scheda grafica su Telegram praticamente con qualche botto. Guarda, è uscita, te la prendo, pam, mi ha preso la scheda grafica e l'ha fatta arrivare da me. E soprattutto c'è da menzionare a SganAway, che qualche giorno fa, qualche tempo fa, sul canale Viola appunto, dissi guardate c'è qualche aggiornamento per quanto riguarda la scheda grafica e bianca. Lui subito, pam, è la Vision di Gigabyte. Quindi complimenti ragazzi, GG. Io che vi devo dire, è una scheda fantastica. Mi dispiace che al momento non sia possibile reperirla per i prezzi troppo alti, per le situazioni di scarsità di stock, ma ragazzi, se volete avere una scheda che vi permetta di giocare tranquillamente in 2K a refresh rate altissimi, in 4K con degli ottimi FPS e in ultra wide, 3440x1440, questa qui è la scheda che fa per voi. La 3090, per me, non ha senso acquistarla solo per il gaming. Poi ok, la volete acquistare, sono fatti vostri. Io mi trovo benissimo adesso con questa 3080. Vedremo in futuro come si comporterà per quanto riguarda i giochi in uscita. Vi ringrazio di aver seguito il video, grazie mille davvero, sono estremamente contento di averlo registrato, di averlo editato. E vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sul video del punto DG. E ci vediamo al prossimo video. Sempre qui sul punto DG, sempre qui col vostro G. Ciao! Ciao! Ciao!